Eccolo la, il passiente 13, dice di ricordare nulla, ammenesia retrograda. Capisco che non sia facile dopo un anno sabbatico. Non è stato un anno sabbatico, premario, ma di lutto. Buongiorno. L'aspettavo in terapia. Allora voleva veramente regalarmi un orologio. L'ora è ferma alle 21 e 18 del 29. Alle 20 e 45 avviene l'incidente di mio marito. Ma il giorno dopo, a due chilometri dell'incidente, viene ritrovato un uomo senza identità. E quest'uomo viene portato al mio ospedale e viene assegnato a me. Sa, a volte ci vuole del tempo per riacquisire certe competenze. Anche in amore. Io e te abbiamo sempre condiviso tutto. E avrei tanto piacere che tu ricominciassi a farlo. Commissare, ho trovato una ragazza. E io voglio soltanto arrivare alla verità. È molto rischioso. Sa, cerca guai? Dovresti ricordartelo meglio di me quello che è successo buonanotte. E essere accusato di qualcosa che non si ricorda rende pazzi.